ok eccoci allora questo è diciamo lo schema di come funziona il contattore geiger allora fondamentalmente è molto semplice questo può essere un tipo allora un tipo è con la sonda a tubo geiger muller che è questo tipo qui che vedremo nello specifico come funziona ed è esattamente il tipo che ho io se no c'è un altro tipo a pancake in cui la sonda è fatta così li vedremo entrambi allora il contattore geiger che fondamentalmente è questo oggetto la sonda esterna collegata da un cavo con dentro due fili poi andiamo a vedere come funziona allora semplicemente ha un generatore di alto voltaggio ok che attraverso questi due fili andrà a caricare un tubo di metallo nella superficie del tubo metallica ok comunque l'involucro esterno che sarebbe il tubo che all'interno ovviamente è vuoto è cavo all'interno del tubo quindi isolato dalla struttura esterna c'è un filamento ok e tra questo filamento e il tubo esterno c'è un gas il tutto è riempito con un gas a bassa pressione e cosa succede questo generatore di alto voltaggio genera appunto una differenza di potenziale molto alta tra il filamento perché un contatto è collegato al filamento l'altro contatto al tubo cosa succede questo questa tensione è appena appena non sufficiente per far avvenire una scintilla cioè una scarica di corrente dalla superficie esterna al tubo cioè al tubo dalla superficie del tubo al filamento quindi questa tensione è lì lì per far la scintilla ma non ancora sufficiente per farla avvenire cosa succede se una particella ionizzante quindi carica può essere una radiazione beta per esempio o anche una radiazione gamma cioè nel senso può benissimo essere un'onda che colpisce ok un'onda che colpisce qui ok cosa succede la zona dove prendiamo per esempio questa particella colpirà il tubo una volta che viene colpito il tubo la particella cederà la sua carica al gas in questa zona questa carica aumenterà quindi la carica elettrica del gas in questa zona che grazie appunto alla tensione già fornita dal circuito d'alto voltaggio questa carica adesso sarà sufficiente per ionizzare questo gas quindi far avvenire una scintilla tra il tubo e il filamento questa scintilla cosa vuol dire? vuol dire che ci sarà un passaggio di cariche elettriche quindi ci sarà per un attimo una corrente una corrente elettrica che magari per esempio il filamento attraverso la scintilla andrà qui attraverso il tubo poi rientrerà qua e via via ritornerà qui questa corrente che viene captata da questo contatore che semplicemente conta conta le cariche che passano cioè le cariche conta le scintille gli impulsi le scariche che vengono effettuati quindi in questo modo ad ogni impulso il contatore aumenterà il suo conteggio di 1 e quindi sapremo il numero di particelle al minuto ovviamente stando lì per qualche minuto sapremo quante da quante radiazioni il tubo è stato colpito da quante particelle cariche o raggi eccetera è stato colpito in maniera da riuscire poi a ricavarci la radioattività della zona o dell'elemento della cosa che stiamo misurando con la sonda e questa è la sonda a tubo di Geiger-Müller poi abbiamo anche degli esempi questa invece è una sonda fatta a pancake si dice funziona più o meno nello stesso modo semplicemente non è un tubo che è riempito con un gas con filamento in mezzo all'alto voltaggio semplicemente l'alto voltaggio viene applicato tra queste spazzole che in realtà sono delle lamine messe appunto tipo si chiama pancake così alternativamente cioè alternate una positiva l'altra negativa una positiva una negativa e cosa succede? nel momento in cui una particella carica verrà qui a colpire questo avverrà una scintilla tra l'altro la cosa carina di questo diciamo ok che si può in certi casi vedere anche proprio la direzione della particella ok si potrà vedere anche la direzione della particella che ha colpito i nostri piattini perché questi sono dei piattini no? sono dei piatti ovviamente anche qui ci sarà il suo circuito il suo contatore anche qui e così via per il resto diciamo sono identici cambia solo il tipo di sonda e poi la sonda e varie sonde hanno bisogno della loro alta tensione quindi questo è il principio di funzionamento di un contatore Geiger tubi semplici così possono rilevare facilmente radiazioni X gamma e beta ma non le alfa perché le alfa non riescono a superare ad attraversare la superficie del tubo le alfa già sono più facilmente rilevabili con un tipo come questo ci sono però alcuni tubi Geiger che hanno una speciale finestrella di solito davanti qui che è una finestrella una finestrella fatta da particolari materiali che permettono il passaggio appunto di radiazioni di particelle alfa quindi di atomi di elio per esempio o comunque permettono il passaggio della carica a seguito dell'urto di una particella alfa quindi alfa ok una particella alfa questo invece è una beta ok questo può essere una gamma può essere quello che vogliamo ok un x quindi questi sono i due tipi principali di contattori Geiger ce ne sono di diversi tipi diverse sensibilità ovviamente la sensibilità di un tubo dipende dalla quantità di radiazioni che ci aspettiamo di rilevare per esempio se io sono qui non sono a Chernobyl o in posti dove c'è un elevato tasso di di radiazioni per rilevare delle radiazioni anche diciamo basse tra virgolette non esagerate ci vorrà un tubo molto più sensibile se invece voglio una lettura adeguata però in una zona dove già il rumore di fondo la radiazione di fondo che ricordo essere sempre presente è elevata ci vuole un tubo molto meno sensibile e così via bene questo è lo schema di funzionamento di un contattore Geiger che rileva particelle ionizzanti quindi cariche per i neutroni vedremo che c'è ci sono altri problemi c'è un problema per i neutroni che si può risolvere quindi lo vediamo nel prossimo video che c'è un problema